Dunque, lista civica intitolata Ignazio Marino, abbiamo fatto questa scelta che anche noi presidenti comunque la intitolavamo come quella comunale. 50% donne e 50% uomini, ma credo che vista la mia storia questo era così sicuro. Una lista che vuole avere in sé intanto delle grandi battaglie contro Alemanno, faccio per esempio Enzo De Camillis che è il capolista, che è una delle battaglie di Cinecittà. Dice perché Cinecittà in centro storico? Perché il centro storico ha sempre un rapporto molto stretto con il cinema e secondo me bisogna arrivare a una regolamentazione nuova perché non ci siano troppi disagi nel centro con le produzioni cinematografiche ma che soprattutto invece porti un riscontro diretto a questo territorio. Magari i registi vogliono proprio il centro di Roma, vediamo che è pieno, non se ne può più, tolgono parcheggi, fanno come gli pare. Ma noi non possiamo fare come Alemanno che li sta cacciando chiedendo un'occupazione di suolo pubblico altissima mentre in Europa le capitali europee tolgono l'occupazione di suolo pubblico per favorire le grandi produzioni insieme a Film Commission. Quindi credo che noi dobbiamo trovare una situazione di equilibrio. Da quante sono 25 persone candidate in questa lista perché 25 saranno i consiglieri municipali eletti? 50% uomini, 50% donne. Chi c'è in particolare? Giovani, meno giovani? Quali le professioni? Sì, 24 più una, la 25 stima sono io. Abbiamo due giovanissimi di 20 anni, un italiano e un'italo-brasiliana perché come dice il loro slogan Roma cambia volto. Questa è la nuova cittadinanza e quindi noi l'abbiamo voluti mettere in lista anche proprio per dimostrare qual è la nuova Roma che si va costruendo. Poi ci sono tantissime donne, donne architette, donne avvocati, donne giornaliste, quindi professioniste che vogliono dedicare un tempo alla loro città, alla loro zona, un tempo alla politica e questo mi pare molto importante. Ci sono due architetti che hanno partecipato ai laboratori di partecipazione come quello del deposito Atac. c'è Natalina Im che è una verde che viene già da una consigliatura precedente e tanti altri che adesso andiamo a presentare. Cominciamo a vederne qualcuno? Assolutamente, grazie.